Come character designer amo molto inventare personaggi nuovi, quindi se dovessi scegliere tra personaggi già esistenti, personaggi nuovi, ancora da inventare, sicuramente preferirei la seconda possibilità, anche perché amo molto sperimentare e ricercare, per cui l'idea di confrontarmi con nuovi personaggi mi attirà sempre un po' di più, ma esistono personaggi già esistenti che comunque amo molto disegnare. Lavoro sia per Disney US, quindi Disney America, che Disney Italia. La differenza più grande è chiaramente legata al fatto che per Disney US lavoro più che altro su illustrazioni, quindi per libri illustrati, ma anche come character designer mi è capitato di lavorare. Stessa cosa per Disney Italia, nel senso che anche lì ho lavorato come character designer, ma per Disney Italia per lo più disegno fumetti, anche perché la produzione di fumetti Disney a livello mondiale avviene per la maggior parte proprio in Italia. Un'altra grande differenza è sicuramente nel fuso orario, per cui spesso, visto che comunque tendo a fare le ore piccole al tavolo da disegno, spesso lavoro di notte e di notte ho degli scambi di mail con Disney Los Angeles. Monster Allergy si inseriva un po' nella categoria Euromanga, che è nata in Europa una decina d'anni fa più o meno, quindi abbastanza recentemente. In realtà nasce, per quanto riguarda l'Italia, dentro Disney con Witch se vogliamo, perché un po' noi disegnatori italiani, che siamo cresciuti con i cartoni animati, con gli anime degli anni Ottanta, manga degli anni Ottanta, abbiamo un po' nel nostro background questa formazione, questo gusto che ci riporta un po' al Giappone. e sicuramente ad un certo punto, lavorando in Disney, questa cosa ha cominciato ad uscire fuori con Witch, appunto. Con Witch, ma anche poi con Monster Allergy e in particolar modo a livello europeo e mondiale con Skydoll.